Quella che state per guardare e ascoltare è la mia conversazione con Steve Kaufman, il più grande poliglotta vivente, un uomo che nella sua vita ha imparato 20 lingue. Provate a immaginare, non le parla tutte e 20 ancora oggi, ma ne parla 12 senza nessun problema. Ed è un personaggio veramente straordinario, è stato un onore poterlo ospitare sul mio canale e spero che questa intervista vi stupirà tanto quanto ha stupito me. Mi ero preparato a intervistarlo in inglese, ero carico per fare questa intervista in una lingua straniera e Steve appena ci siamo incontrati, dopo due parole scambiate appunto in inglese nella sua lingua, mi ha detto subito voglio parlare italiano. E' cominciato così e quindi abbiamo fatto tutta la nostra conversazione in italiano e vedrete la padronanza incredibile di Steve, non soltanto della lingua, perché è chiaro che il suo italiano non è una lingua che usa tutti i giorni, e quindi sì fa degli errori, ma la sua padronanza del concetto di lingua, di come non abbia nessuna paura di sbagliare, di correggersi e di imparare sul momento. E' incredibile da vedere ed è incredibile pensare che potesse parlare italiano mentre negli ultimi giorni stava studiando arabo e persiano e parla lo spagnolo e il francese e lo svedese e l'inglese naturalmente e mille altre cose. Quindi è veramente un personaggio straordinario, non soltanto per la sua padronanza appunto come dicevamo delle lingue, ma anche per la sua passione, per la sua fame incredibile di cultura, di culture potremmo dire. La sua passione per le lingue è soltanto la punta dell'iceberg, la sua passione vera è quella di capire le persone, le culture, i luoghi dove esplora quello che si trova davanti. Steve è un personaggio che dovete assolutamente conoscere. Un'ultima piccola precisazione. Questo video non è sponsorizzato dalla sua app, Link, a cui fa riferimento più volte durante la trasmissione. Si scrive Link Q, non è sponsorizzato, dicevo, ma penso che in futuro potrò creare delle collaborazioni sia con Steve sia appunto con la sua app. Vi terrò aggiornati su questo. Un'app fantastica che tra l'altro conoscevo e consigliavo, ne avevo parlato ancora nel mio canale, e quindi che vi posso consigliare senza problemi, senza problemi anche di conflitto di interesse perché la usavo prima, insomma, e comunque non mi ha sponsorizzato. Vedremo in futuro se riuscirò magari ad avere una qualche collaborazione anche con quest'app che torna utilissima per chiunque voglia imparare una lingua straniera. In ogni caso, godetevi la conversazione con Steve, almeno la metà di quanto me la sono goduta io. Buona visione. Steve, è un piacere averti qui. Veramente un onore eccezionale. No, per me è un onore, è un piacere. È un piacere parlare in italiano, perché non ho mai la possibilità di parlare in italiano. È incredibile, tra l'altro fino a un minuto fa parlavamo in inglese e abbiamo detto cominciamo a parlare in italiano ed ecco che subito sei partito. Eccezionale. Partito con tutti i… mi sbaglio, mi sbaglio nell'italiano, ma per me lo più importante è comunicare e capire, capire, io capisco, ma senza parlare, certo che il livello italiano è molto peggio adesso che alcuni anni fa, quando sono stato in Italia, per esempio. Certo. Di viaggio. Non ho mai vissuto in Italia, ma ho viaggiato, ho ascoltato molto in italiano. È una lingua che mi piace molto. Nel tuo libro dicevi che ti piace guardare i film in italiano. Sì, sì, mi piace guardare i film, ma per imparare, soprattutto ho ascoltato, ho ascoltato molto. Per esempio, so che gli italiani, agli italiani non le piacciono, non le piacciono per esempio i Promessi Sposi, ma per me sì, ha permesso di scoprire un mondo o altro. L'Italia è di 400 anni fa, ho ascoltato molto, ho letto, e qua tutti questi CD sono in italiano. Wow, fantastico. Soprattutto del narratore, no? Ma sono in cecco, in tedesco, in svedese, in russo. Ce ne hai di tante libri. Adesso non bisogno, perché ci sono tante cose che possiamo, come si dice, descaricare, no? Sì, scaricare, scaricare dall'internet. Scaricare dall'internet. Dunque non ho bisogno di comprare tanti CD. E una volta invece... E leggo, questo è il metodo, ma i film per divertire, no? Sono sempre un piacere, guardare film in italiano, in qualsiasi, no? Qualsiasi, giusto. Qualsiasi, per me è sempre un problema. Italiano, spagnolo, portoghese, sono comunque meglio, no? Sono simili. No, è sempre un piacere guardare film in russo, in tutte le lingue che capisco. Perché per me l'apprendimento delle lingue passa per la comprensione. Sì, è importantissimo. Ma senti, io ho già parlato di te e ho anche già fatto una recensione del tuo libro sul mio canale, ne ho parlato tante volte, ma tu sei uno dei più grandi linguisti e poliglotti che sia mai esistito. Ma se ti dovessi presentare al mio pubblico, che magari non ha ancora sentito parlare di te, come ti presenteresti? Bene, sono un vecchio, no? 74 anni. Giovanni di 74 anni. 74, sì. Durante la mia carriera, soprattutto nel commercio del legno, ho dovuto imparare delle lingue. Prima di cominciare nel commercio del legno, ho lavorato come diplomato canadese. E come diplomato? No, cominciamo. Ho studiato tre anni in Francia, ok? Dunque ho potuto imparare francese a un certo livello. E forse è la lingua che parlo il meglio, no? Ma dopo di questo, ho studiato il cino, il mandarim, in Hong Kong. E dopo questo ho vissuto nove anni in Giappone. Ok. E per il commercio del legno, ho studiato il tedesco e il svedese, perché ho lavorato molto con gli svedesi. E soprattutto negli ultimi 15 anni ho studiato il russo, il cecco, il coreano, il portoghese. Fantastico. E soprattutto ho cominciato con il mio figlio, il sito, il web site, no? E uso il link. Adesso studio l'arabe e il persiano. Ah, bellissimo. E uso il link. E' diventato come mi vita, no? Studiare le lingue. Le lingue, certo. Come si dice? Interagire, no? O connettare con le lingue. Interagire, sì, certo. Interagire, sì, sì, certo. Connettere con le persone. I membri, no? Del link. Bene. Certo. E so che tu, per ti... Ti si può, no? Te, per te. Per te, per te. Ti ho spagnolo, credo. Non lo so. Per te, l'entusiasmo, la passione è importante. Per me, anche per chi, per me. Per me, per me. Per me, sì, sì, sì. La questione di non poter trovare le parole o fare degli errori, per me non è un gran problema. Ho tanto piacere a parlare e ascoltare l'italiano. È fantastico. Ma, senti, ma quante lingue hai imparato? Bene. Beh, e ho imparato come 20, però questo non vuol dire che posso parlare fluentemente, no? Ok, certo. 20 lingue, ma vediamo che ci sono come 12 che posso parlare così come l'italiano, un poco meglio, un poco meno bene. 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 Ci sono come 5, 6 che parlo bene, proprio bene. Giafonese, mandarin, spagnolo, francese, no? E dopo ci sono come 8 lingue che ho imparato prima di andare in Grecia, ho imparato il griego in l'isola di Creta, si dice? Sì, Creta. Creta ho parlato con i greci, i greci, normale. Certo. E anche ho studiato il rumeno e ho potuto comunicare con la gente in Romania. Adesso sarebbe molto difficile per me parlare in queste lingue, ma dopo alcune ore di ascoltare e leggere e soprattutto ascoltare e leggere dei contenuti che ho già letto e ascoltato. Ah, torna in mente. Per riflettere la memoria, credo che devo poter parlare come prima. Fantastico. Tra l'altro, una cosa che ho sempre trovato incredibile, ascoltando anche le tue interviste, è da quando hai avuto 60 anni che hai cominciato davvero a imparare tutte queste lingue. E quindi sei la prova che quella che si dice che solo i bambini, solo i giovani possono imparare le lingue, non è vero. Non è vero. È solo una questione di metodo, di allenamento e di voglia. Di voglia. Sì, è possibile che una persona più giovane può studiare più rapido, no? È possibile, no? Certo. Non so, però... Certo. Ma si può imparare. Io ho fatto la prova, perché siamo, secondo la scienza, che i neuroni continuano a... mantengono su plasticità, no? Certo. Che vuol dire, se possiamo creare delle connexioni nuove, non c'è nessuna ragione, perché non possiamo studiare qualsiasi cosa, incluso le lingue, dopo 60 anni, 70 anni, 80 anni... Certo. Ho la intenzione di continuare, conseguire, per scoprire le lingue dell'India, no? Non so, Africa, Indonesia. Certo. Fino a 200 anni. Sempre nuove lingue. Fantastico. Sempre nuove lingue. Qual è la lingua più difficile che hai mai imparato? E la più facile, invece? Bene, sempre le lingue che sono più differenti, più diverse delle lingue che già conosci, sono più difficili. Per me il cino era molto difficile, perché aveva bisogno, la necessità di imparare tutti questi origlifichi, come si dice in italiano? Ideogrammi. Ideogrammi, sì. I caratteri, sì. I caratteri. Ma, sì, un italiano vuole imparare lo spagnolo, lo portoghese, anche il romeno. Il romeno con l'italiano è molto facile. In due mesi ho imparato il romeno per andare in Romania e comunicare con la gente. Il griego è molto più difficile, perché non ci sono tante parole simili. Senza parlare di... Arabe è molto difficile e la lingua persiana è molto più facile. Molto più facile, perché è una lingua proprio della famiglia indo-europea. Certo, 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 certo. Ma molte persone, io sono sicuro che tante persone che ci staranno ascoltando, sentendo queste cose, pensano che tu abbia qualche magia. Ma invece, qual è il tuo metodo? Come fai? Io credo all'input. Non ho una lingua nuova in me, bisogno che la lingua entra nel mio cervello, no? E quindi bisogno ascoltare molto e leggere molto. Prima di parlare, perché... Bene, se può... Si, o... Benché... Oh, ehm... How do you say? Hmm. You can say it in English. No, no. I'm trying to do the subject. Benché... No... What's the job? Benché ebbe? No. If I only have... Oh, se soltanto avessi... Avessi. Se soltanto avessi un livello molto basso di qualsiasi lingua, qui in Vancouver non ho la intenzione di cercare attraverso dell'internet delle persone per parlare, no. No, voglio concentrarmi nell'ascolta e nella lettura. Ma se sono in Italia, voglio tentare di usare, benché sia un livello molto basso, voglio usare, ma se non ho questa possibilità, voglio ascoltare e leggere molto. Ogni giorno comincio con ascoltare l'arabe e il persiano adesso, preparando la colazione, no? E dopo la colazione, è sempre io che faccio questo. E la sera, mia moglie, perché è molto meglio via per preparare la cena, no? Ma dopo io l'ho... tutto questo, come si dice... Metà posto. Eh sì. Ascoltando. Dunque, ogni giorno posso ascoltare come un'ora di lingua. E ascoltando ci sono sempre dei posti, no? Dei sezioni che non capisco. Dunque, ho la curiosità per sapere. Perché non ho capito? Che hai capito? Che erano queste frasi, queste parole? E dunque, leggo, e leggo, e leggo. E così, poco a poco, delle abitudini nuove entrano nel mio cervello. Certo. E dopo questo, a volte, voglio cercare delle spiegazioni, perché ci sono delle strutture, delle strutture nuove, che... Come funziona? Mi sembra che in italiano si dice così, ma... Voi cercare. È un libro piccolo, piccolo, grammatica. Piccolo, piccolo, piccolo. Senza testi, senza esercizio, senza tutto questo. Senza utilità. Nessuno. Nessuna. Adesso, perché soprattutto studio nel... Link, nel mio iPad, in questi lingui ci sono dei dizionari della... Per esempio, per l'italiano, Diczionario di congiugazione. Quindi, ogni volta che... Che... V... 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 No. V... Ah, sì, va a V. Ah, vedo. Vedo, vedo, sì. I gotta trust myself. È importante confidare in si stesso, no? Credeva che era... Vedo, ma non era sicuro. Vedo in spagnolo o italiano. No, bisogna confidare in si stesso. Sì, vedo un verbo e non sono sicuro che questo è il presente o il passato o lo che... per esempio Context Reversal è un dizionario benissimo, buonissimo, buonissimo e dunque, sì, io vedo, vedo, posso cercare in il Context Reversal Diczionario vedo dove è in la congiugazione e posso vedere tutte queste altre forme del verbo non per ricordarne, non per dare un'occhiata, come si dice, no? Sì, sì, dare un'occhiata, certo. Un'occhiata e così poco a poco si crea nuove abitudini. Sì. E così ascoltando, leggendo e a volte mi riferire alle tabelle, alle spiegazioni e quando ho la possibilità vuoi parlare. Certo. E questa è una cosa che mi ha sempre colpito perché l'ho sentita ripetere a te molte volte non è soltanto imparare una lingua è proprio abituarsi alla lingua. È il concetto proprio di immergersi nella lingua e lasciare che questa immersione ci riempia, no? Ci abituiamo a un nuovo modo di pensare e di comunicare. Sì. È proprio questo. Sì. È incredibile. E ho letto un poco su il funzionamento del cervello, no? Certo. Il cervello è una macchina che proprio perché nel mondo nel mondo ci sono tanta confusione che il cervello per perché noi possiamo vivere, no? Bisogna fare delle regole. Sì. E dunque noi possiamo antecipare tante cose perché il cervello già ha fatto delle come si dice delle patrone, no? Si dice, no? No, questa parola forse ha fatto ha fatto delle anticipazioni, ha fatto dei ragionamenti, delle... Ragionamenti, no, dei modelli, dei modelli, dei modelli, dei modelli che la prossima volta non sarà completamente nuovo per noi. E possiamo... E tutto questo si fa naturalmente. io penso che il cervello con sufficientemente di input, no? Ascolta la lettura e anche parlare con la gente, con esperienza con la lingua. Poco a poco si fa delle regole per nel cervello. Sicuro guardare dei libri sulla drammatica, libri piccoli, piccoli, può aiutare, ma lo più importante è che dare la possibilità al cervello di abituarsi e ottenere dell'esperienza con la lingua, con l'esperienza con la lingua, dopo si può leggere delle spiegazioni della grammatica. Senza l'esperienza con la lingua, tutte le spiegazioni sono inutili. E questo io credo sia forse il motivo per cui a scuola, nei corsi, non si imparano le lingue. Mi ricordo di aver sentito una tua intervista in cui in inglese dicevi una parola, una serie di parole che mi hanno colpito. Dicevi they have it backwards. Insomma partono al contrario. studiano prima la grammatica e poi ascolta e parlano e invece dovrebbero fare esattamente il contrario. È giusto questo? È per questo che a scuola non si impara l'inglese. Sì, ma ok, la gente può dire senza una conoscenza, conoscimento, conoscenza, come si dice? Conoscenza, giusto. conoscenza della grammatica non si può capire, si dice, ma non è vero perché si può capire con le parole perché nelle lingue ci sono tanta come si dice in inglese redundancy. Sì, ridondanza. Ridondanza. Se ci sono le parole si può capire e anche benché si sbaglia non è molto importante. Io posso leggere e avere del piacere a leggere e non voglio capire 100%, voglio capire 70%, 70%. Basta, basta. È un'esperienza con la lingua, no? Certo. soprattutto adesso che abbiamo la possibilità di leggere online sia con il link o non con il link possiamo cercare le spiegazioni delle parole che non conosciamo e possiamo poco a poco abituarsi alla lingua e è molto importante ascoltare e leggere. Non solo leggere, ascoltare e leggere perché per poter leggere bisogna sapere più o meno come si pronuncia questa lingua, no? Sì, certo. Ascoltare e leggere. Ma dobbiamo leggere perché per me è molto più difficile ricordare delle parole se non ho letto queste parole. dipendo di ascoltare. Sì, ma volevo chiederti proprio una cosa su questo. Tu parli sempre dell'importanza di ascoltare e di leggere e ovviamente è importantissimo ma come farlo? Cioè io mi immagino adesso ti chiedo una cosa è giusto dire che bisogna ascoltare e leggere però in maniera attiva cioè bisogna pensare non si può soltanto mettersi le cuffie e poi fare qualcos'altro ma non pensarci bisogna stare attenti a trovare questa cosa non la so la vado a cercare bisogna metterci un po' del nostro. Sì questa è la ragione perché sempre adesso comincio inizio con i mini stories che abbiamo nel link perché ci sono tanta ripetizione tanta ripetizione la stessa storia ci sono due versioni con tempo differente con persone differenti le stesse parole e dopo delle domande con le stesse parole ci sono tanta ripetizione che non è possibile concentrarsi cento per cento ok? Certo se io mi sento con l'intenzione di ascoltare non posso ascoltare dunque se io faccio altre cose e preparare la colazione e guidare la macchina posso ascoltare con più di come si dice di concentrazione concentrazione fare una contraddizione ma è così è così ma non è cento por cento ma con tutta la ripetizione anche questi mini stories che ascolto nell'arabe o in tersiano che ho ascoltato trenta volte la trenta trenta unesima volta che ascolto vuoi scoprire delle cose vuoi mi dare come si dice dare conto no? vuoi realizzare darsi conto come si dice vuoi vedere vuoi notice come si dice notice notare notare non ho notato prima certo delle cose che ho ascoltato 30 volte ma non ho notato e la trenta unesima volta vuoi notare e dopo questo ogni volta che questa costruzione o questa parola pare in altri contenuti vuoi notare e questo è il processo certo dunque quando comincio con l'arabe o il persiano era non era noise come si dice rumore rumore non si capiva niente senza parlare della scrittura arabe difficilissimo bisogna bisogna credere in si stesso se stesso non solo gli istinti quando parliamo che voglio comunicare non dubitare di si stesso anche quando imprendiamo bisogna credere che il processo ben che sia molto lontano molto piano molto piano ma poco a poco funzionerà va migliorandosi non va peggiorandosi va migliorandosi e mi pare di capire dalle tue parole che la frequenza e la distribuzione spacing sono particolarmente importanti non si può studiare una lingua una volta alla settimana bisogna continuare è una cosa continua 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 e sì all'inizio ci sono tante parole che non conosco che non so che vuol dire ma all'inizio ci sono tante parole come in questi mini stories ci sono tanti verbi di alta frequenza dunque si impara si impara rapido ma la frequenza delle parole in qualsiasi lingua cade molto rapido le parole più frequenti 500 1000 sono bastante frequenti ma dopo c'è una cadenza di frequenza molto molto rapida per questo è sempre più difficile imparare delle parole perché in un libro va come si dice tu vai a vedere queste parole due volte tre volte nel libro dunque bisogna ascoltare molto leggere molto una cosa che uno per me si sembra anche molto utile perché una volta che ho incontrato un libro una parola la prossima volta sarà in un colore diverso per dirmi tu non sai il significato o senso anche ma hai già visto questa parola certo poco a poco sì una cosa che è incredibile secondo me di te ed è fantastica è che sembra che ti manchi completamente la paura di sbagliare di essere imbarazzato io vedo che uno dei problemi psicologici principali di chi prova a imparare le lingue in Italia l'inglese tutti vogliono imparare l'inglese ma poi hanno paura di parlare perché non vogliono fare una brutta figura non vogliono fare errori non vogliono sembrare che non ci capiscono niente tu questo problema non ce l'hai tu sbagli e ti piace sbagliare sì no ci sono due cose primo per non avere paura per sempre avere buona figura intelligente no adulto bisogna restare in sua lingua certo certo o per me per minimizzare questa problema no devo concentrarmi nelle lingue che parlo bene spagnolo giapponese ma io no voglio cercare griego persano arabe per scoprire certo ci sono a volte è meno è meno confortabile no è meno confortabile certo è una scelta no meno confortabile con tutti i benefici tutti i piacere che potete avere un'altra cosa per me sempre lo più importante il più importante il più importante è la comprensione certo perché perché se qualcuna persona non capisce e va a parlare in inglese un italiano che va a parlare in inglese e non capisce l'altro è l'inglese l'americano il canadese questo è il più il più how do you say intimidating spaventoso fa paura non capisco non capisco posso dire qualcosa trovare delle parole cercare delle cose delle cose a dire con le poche parole che sono le può arreglare ma si non capisce si non capisce questo è il pessimo per questo sempre concentrarmi nella comprensione e volevo raccontarti proprio a proposito di questo e della paura io avevo un sacco di paura di parlare inglese perché lo ascoltavo tanto lo leggevo tanto ma non parlavo mai e poi un anno e mezzo fa ho avuto la possibilità di andare a Los Angeles e mi sono ritrovato improvvisamente in mezzo a persone e è una di quelle situazioni in cui o nuoti o vai a fondo devi parlare e lì mi sono sbloccato e poi col tempo ho cominciato ad essere più mi sono reso conto che non c'era niente di cui avere paura nel momento in cui comunichi le persone ti capiscono anche se hai un accento che non è magari bellissimo non importa non è non è quello il punto si la lingua è per comunicare si per comunicare e si reso conto e questa parola cercava si perché per te per te tu sai molto importante no? si stesso molto importante mi accento è importante tutto questo è importante per me e per gli altri non è tanto importante vogliono semplicemente parlare con ti sapere cosa vuol dire che vuoi dire che così pensi questo punto e non va non fanno critica del tuo accento non è importante per gli altri per ti magari molto importante per gli altri non è importante e una volta che se rendi conto di questo e soprattutto se tu sei stato in sono sì sei stato in una situazione sì per sopravvivere bisogna parlare non è una questione di performance no? sì una performance giusto no non è la performance è la comunicazione certo sì e certo che per me con tutte le lengue che ho imparato adesso sono abituato a sbagliarmi ma all'inizio anche io volevo parlare bene volevo parlare con una pronuncia un accento bene correttamente no? ma adesso no 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 per me è più importante più importante avere la possibilità l'occasione come oggi giusto di parlare in una lingua e dopo questo ascoltare ascoltare tutti questi cede che è contenuto di promessi sposi promessi sposi per esempio però e non solo promessi sposi no e in altre lingue poter partecipare in altre culture no nel tuo libro lo dicevi imparare la lingua senza imparare la cultura senza capire come funziona un paese come che storia è inutile per cui per te mi sembra di capire non è solo un gioco linguistico ma è anche culturale sociale capire gli altri sì questo è l'oggettivo no l'oggettivo è conoscere altri paesi altre culture siamo delle viviamo in questo mondo con gli altri no è interessante conoscere le altre le altre culture che hanno delle mille di più anni di di storia come il persiano come l'arabe tutto questo è altimperato e quando parliamo un'altra altra lingua altra lingua no siamo imitando la cultura proprio inevitabile inevitabile e più noi vogliamo partecipare partecipare diventare francese italiano cinese giapponese più facile sarà imparare questa lingua è bellissimo questo è un messaggio anche non solo tecnico di studio di apprendimento ma anche un po' verso un mondo che mi pare in questo periodo si sta un po' chiudendo ognuno vuole stare a casa sua e fare un bel muro invece sembra che questo non è il tuo di obiettivo questo è bellissimo ma senti una cosa che anche qui trovo molto importante quando parli di acquisire nuovi vocaboli tu parli sempre del contesto e dell'importanza di un contesto che significhi qualcosa è il meaningful situation meaningful content contest cioè l'idea di avere una capire la struttura di una in maniera non in maniera isolata e quindi so che c'è un tema anche un po' controverso che è quello di tutte le persone che e anch'io un pochino ho fallito su questo che amano le flashcards che amano scriversi la parola imparare la moria e basta e tu dici no bisogna usare il contesto è giusto questo sì perché la motivazione per me è capire il contenuto dunque si vedo una parola che non conosco bisogna cercare nel diczionario online subito subito perfetto continuare a leggere il contenuto perché è l'interesso del contenuto la voglia di sapere quindi cioè le cose che sono che sono dentro del contenuto e la motivazione e vado imparare imparando le parole di un modo naturale per me ho tentato usare le flashcards e studiare delle liste ma non funziona non funziona perché continuando a leggere e ascoltare a leggere ascoltare a volte vuoi revisare una lista sì soprattutto nel link si leggo una pagina quando vuoi la prossima pagina voglio vedere le parole che ho salvaggiato in questo testo sì sì le parole salvaggi voglio continuare ma non fare come cento parole per cercare di imparare perché per me è una secondo me ho letto dei libri sul funzionamento del cervello è molto difficile per il cervello di imparare in bloc questo vuoi tentare di imparare questo e vuoi leggere una due tre quattro volte per imparare questo è molto difficile bisogna un po' cambiare il paesaggio cambiare il background cambiare la situazione cambiare i contesti e così poco a poco il cervello si va abituando a queste parole senza pensare senza pensare tu potrai parlare di un modo naturale con le parole che appartengono no? si appartengono insieme perché questo è questo in qualsiasi lingua ci sono delle parole che che sono usate usate insieme e questa non è una questione di imparare è una questione di creare delle abitudini di modo che naturalmente queste parole salgono certo certo sì 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 quindi è un po' artificiale prendere un blocco e imparare pezzo per pezzo è molto più naturale dici tu imparare leggere qualche cosa quando non trovo una parola quando non capisco una parola la imparo e poi vado avanti a leggere vado avanti ad ascoltare vado avanti a guardare il film sì e dimentica 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 imparare dimenticare imparare dimenticare senza senza pensare che possa imparare questa le le parole basiche le 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 regole basiche non è possibile non è possibile è un processo di imparare vedere dimenticare vedere oltre a volta imparare oltre a volta dimenticare oltre a volta è per questo che i contenuti devono essere interessanti se no non va a continuare quindi tu dai come consiglio di trovare la motivazione per imparare le lingue guardando ascoltando leggendo qualcosa che ci piace è giusto qualcosa che ci interessa non sul libro di scuola sì all'inizio non è possibile perché tutto è rumore certo e per questo all'inizio tre mesi usare queste mini storie ma dopo questo sempre cercare delle cose adesso uso delle podcast in arabe e persiano e ho trovato delle collaboratori che fanno la fanno la trascrizione dunque posso importare nel link e studiare ma è sempre interessante nel mondo arabe e in iran cosa è successo succede dunque ci sono sempre perché il cervello bisogna delle cose nuove non solo ripetizione bisogna delle cose nuove interessanti per il cervello sennò il cervello si se ne va io credo di aver imparato l'inglese di più dai fumetti che dalla scuola perché mi piaceva a me piacevano batman superman spiderman e me li leggevo anche in inglese su internet eccetera e guardavo magari dei film e guardavo video su youtube eccetera e ho imparato molto di più così adesso l'inglese ascolto tantissimi podcast e l'inglese l'ho imparato così non l'ho imparato a scuola l'ho imparato ascoltando cose che mi piacevano che mi interessavano e poi provando magari a copiarle in italiano ci sono dei podcast io ho ascoltato molto Rai 2 alle otto della sera ci sono dei podcast fantastico sull'istoria peccato che non ci sono delle transcrizioni ma parole in italiano conosco più o meno parole anche per esempio il gastronauta sai non lo conosco però immagino che sia una cucina cucina dunque a me mi piace la cucina la cucina italiana la cucina del paese ma il gastronauta molto interessante alle otto della sera tutto questo ci sono in tutte le lingue in italiano in portoghese in russo in ucraniano ci sono sempre delle podcast dopo aver detto tutto questo ti faccio la domanda la domanda stupida la domanda che ogni volta la fanno tutti e lo so che non ha senso ma te la devo fare lo stesso quanto ci si mette a imparare una lingua quanto tempo ovviamente dipende partendo dall'italiano romano due mesi spagnolo con difficoltà ma è più facile ma adesso arabe che studia studia l'arabe con il persiano un poco di turco già due anni un anno un anno con il persiano un anno con l'arabe ma non era concentrato ma sì io credo che per imparare l'arabe il persiano e il turco che voglio imparare perché questo rappresenta il Medio Oriente e voglio sapere di più su questa regione dunque tre anni tre anni ho deciso di fare due lingue insieme per non so sì avrebbe fatto solo l'arabe sarebbe stato più avanzato ma sì io non volevo perdere il persiano che aveva già studiato dunque ho deciso di fare le due è un processo di due tre anni perché ho come due ore ogni giorno per concentrarmi in questi lingue per un inglese che va a imparare l'italiano un anno un italiano che già ha studiato molto inglese alla scuola si ascolta ogni ogni giorno si legge ogni giorno e si ha la motivazione e in un anno va migliorare fare un breakthrough sì un salto di qualità incredibile non vuol dire sarà come un nativo no molto confortabile molto confortabile nell'inglese perché ci sono delle lingue che come chiedi compag... 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 oh compag... hanno insieme hanno insieme condividono condividono insieme il 50% del vocabolario certo condividono il vocabolario è molto facile non è il giapponese non è l'arabe certo 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 ma quindi che cosa dici a tutti quei libri quei corsi che ti dicono in due settimane impari il cinese in tre settimane impari il turco no non è vero non è vero non è vero c'è un conosco ho letto un libro libro sul funzionamento del cervello di un tedesco che si chiama Manfred Spitzer e ci sono tante cose in questo libro molto interessanti ma lui dice che il cervello non può fare altro che da imparare ok una macchina per imparare ma va piano va piano ok so tre mesi no bene allora basta con questi corsi che ti fanno imparare il cinese in due settimane non funziona e anche i corsi molto famosi come l'assimile tu vai a comprare o qui delle delle corsi di assimile con un un libro va come non alcanza però reach o raggiungere raggiungere livello B2 B2 no non è possibile perché con un libro no perché bisogna tanta tanti contenuti ascolta e lettura con un libro non è possibile non dà il tempo per il cervello di abituarsi a questa lingua anche pure in italiano che vuole parlare spagnolo tre mesi sarà molto difficile perché tutte le parole si più o meno lo stesso il 90% delle parole sono le stesse però per abituarsi a parlare a capire bisogna di più più di tre mesi non per comunicare più o meno sì questa è una settimana però ma per parlare bene anche un italiano che vuole che vuole imparare lo spagnolo bisogna un po' tempo perché il cervello impara ma piano è verissimo però più lingue impari e più diventa facile perché hai più strumenti il cervello è più allenato come uno sport diventa credo credo di sì più allenato ho la confianza molte persone non pensano che possono imparare la lingua vanno alla biblioteca municipale per imparare l'inglese dieci anni non pensano che possono imparare qui è spagnolo no intanto io ho la confianza che posso farlo la confianza si consegue finalmente arriverò all'oggettivo e questa è io non resisto la lingua ci sono io sono italiano l'inglese perché dici così è stupido ci sono sempre delle ragioni che fanno che la prima lingua resisti resistiamo un po' io sono flexivo in persiano si dice così in arabe si dice così non bisogno sapere perché così si dice certo libero flessibile senza pregiudizi senza paure e ovviamente quando ne hai imparate 20 di lingue la tua confidenza è enorme è chiaro è chiaro e sempre sono contento del livello che che ho certo si voglio parlare male ma non non importa sono perché quando è cominciato non parlava niente e adesso ho un poco ok contento contento ti volevo fare un'ultima domanda perché poi non voglio rubarti tutto il giorno un'ultima domanda invece non sull'aspetto tecnico di imparare lingue ma sull'aspetto emotivo culturale che intanto allora tu consiglieresti a tutti di imparare una lingua e soprattutto che cosa ti dà imparare una lingua che cosa ti resta non soltanto sai fare qualcosa in più ma hai imparato un pezzo del mondo come ti senti quando impari una nuova lingua ho un un sentimento di potere sto volando prima non sapevo niente di questa questa lingua e adesso posso ascoltare capire e certo ci sono delle lingue che mi hanno aiutato molto nel mio lavoro giapponese suedese ma ci sono altri che non non ho niente da fare con il lavoro ma come il cinese adesso ma capire il cinese capire il russo capire il russo guardare un film in russo e capire tutto tutto ci sono delle persone che seguo no? seguo si giusto seguo nel twitter è un ucraniano e capisco capisco è un sentimento di potere ma diciamo per arrivare a questo livello ho letto ho ascoltato degli audiolibri sull'istoria dell'ucrania sull'istoria del russo russo russia 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 italiano o alle otto della sera i promessi sposi ci sono delle conoscenze no? che ti permette a godare no? godersi godere di questa cultura e quando vado in italia ho una idea che sia sicilia agrigento bari umbria e vivere più ampiamente per me è bellissimo secondo la persona ci sono delle persone che fanno le wind gliding ci sono vanno sull'onda si 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 certo è bellissimo questo penso che questo pensiero sia veramente grandissimo e io devo dirti la verità sono un fan un tuo fan da tanti anni e avere avuto la possibilità di incontrarti di parlare con te e di ascoltare queste cose bellissime che mi hai raccontato utili ma anche arricchenti è stata un'esperienza fantastica io veramente ti voglio ringraziare di essere stato qui con noi grazie davvero molto grazie Steve io spero che presto quando la situazione internazionale sarà un po' più tranquilla potremo di nuovo viaggiare potrò anche stringerti la mano di persona mi piacerebbe davvero tantissimo grazie a Padova certo a Vancouver non sono mai stato a Vancouver quindi vengo volentieri Steve grazie di essere stato qui è stato un piacere a Padova, devo dire il vostro inglese è molto impresso sono molto paranoi di mio inglese ho stato preparato per questa intervista la settimana ho cercato di parlare come potre come potre e poi voglio parlare l'Italiano e quindi grazie per l'Italiano ma quando ho sentito a me parlare l'Italiano ho pensato chi è questo italiano è stato un piacere è stato un piacere in mio mio l'Italiano non lo so non lo so prima di far la prima cosa i think sometimes non ha un'identifiable accent. Non ha un'identifiable Italian accent. I may be Spanish. Yeah, you could be something. We don't know. Maybe you're from Malta. I've never met anyone from Malta, but who knows? Someone who is speaking with total control of the language and has a slight, not easily identifiable accent. That actually sounds sophisticated. The worst case is the reverse. If you have a guy that can say Hi, how are you? Yeah, that's a parody. Almost.